Così come era avvenuto nella giornata di ieri, circa 200 agricoltori della Valle del Belice, aderenti ai comitati spontanei nati nei mesi scorsi, sono scesi in piazza per protestare contro la grave crisi che attanaglia il settore. Parcheggiati trattori in piazza Matteotti, nei fresti del Palazzo Municipale di Santa Margherita a Belice, aspettano di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per salvare il comparto. Una forma di protesta necessaria per sensibilizzare l'opinione pubblica e la classe politica su questo grande dramma sociale. Alla protesta aderiscono i produttori di Santa Margherita, Menfi, Montevago e Sampuca di Sicilia. Una protesta che segue di 24 ore l'occupazione della sala consigliare di Canicattì. Una delegazione di produttori agricoli, insieme ai comitati degli agricoltori e ai responsabili della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, stamattina sono stati ricevuti dal prefetto di Agrigento Umperto Postiglione. È stato fatto presente che la crisi della provincia è talmente grave che ancora altri comuni potrebbero seguire l'esempio di quello che è successo a Canicattì e nella zona del Belice, con gravi conseguenze per l'ordine pubblico. Questa volta, hanno detto gli agricoltori, andremo avanti finché non arriveranno risposte concrete dal governo.